La porta non si aprirà fino alla fine del ciclo di ripristino. Preparati a combattere. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Elyas è sicuro che sia quella giusta. Tirami fuori di qui! Cosa ci fai tu? Che sta succedendo? Tu lo sapete che era lei? È la persona che cerchiamo! Senti, sapevo solo che qualcuno poteva aiutarci, ok? E perché dovrei aiutarvi? Sono qui da una vita. Sono tutta di questo posto e sono in grado di portarci all'aria. Tu richiami una nave e lui ci porta via da qui. Possiamo farcela, dobbiamo solo rimanere uniche. Grazie, non è molto però che sono. Ho un consiglio però. Non fidartelo. Non è che sembra. Elyas! Ti giuro, Jacob, non sapevo fosse lei. Credevo sapessi tutto per questo posto. Sì, lo credevo anch'io. Adesso? Sei in trappola finché la cella non attracca. Perciò io posso raggiungere il treno. E tu no! No, va bene. Mi servi al trattamento rifiuti, d'accordo? Chiamami quando sei lì. Trasferimento dati completato. Aspetta. Cos'era quello? È qualcosa? Cos'era quello? Cos'era quello? Cos'era? 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 Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Grazie a tutti. 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 Ti riporteremo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.